Consiglio dei Ministri proroga cartelle esattoriali, la sospensione al 28 febbraio. Ancora proroga cartelle esattoriali di un mese di sospensione degli invi. Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito il 29 gennaio, avrebbe previsto un ulteriore stop fino al 28 febbraio. La ripresa degli invi sarebbe dunque spostata all'ultimo giorno di febbraio. Essendo domenica, slitterebbe automaticamente al mese di marzo 2021, ad anticipare la notizia all'Agenzia ANSA al termine della riunione. Al momento, tuttavia, manca ancora un testo e una comunicazione ufficiale, ma sarebbe certa una nuova e breve proroga del periodo di sospensione degli invi in attesa di una soluzione più duratura, che dovrebbe trovare posto nel Decreto Ristori 5. Il provvedimento potrebbe confluire nella legge di conversione del Decreto 1000 proroghe, Decreto legge 31 dicembre 2020, numero 183, per cui il Parlamento ha 60 giorni di tempo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, anche il 28 gennaio, aveva sottolineato la necessità di intervenire sulla scadenza del 1 febbraio. In occasione del convegno telefisco 2021, Gualtieri aveva sottolineato che il Governo era al lavoro per uno scaglionamento degli invi e delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate e riscossione degli atti dell'Agenzia delle Entrate. La proroga della sospensione fino al 28 febbraio, con molta probabilità, sarà un ulteriore passaggio, prima di una soluzione più duratura, uno dei punti del Decreto Ristori 5, che però sta richiedendo più tempo del previsto.